Ma anche perché il 43% di turnover, almeno in grado di un'organizzazione, che poi lo chiami capitale umano, risorse umane, dovrebbe essere centrale. Io qui riporto sempre due esempi. Una lettera di 2022 mandata agli azionisti, tutti da parte di Mary Fink, quindi non un pericoloso sovversivo, potremmo essere noi che parliamo di queste trasformazioni, ma in cui il CEO di BlackRock, il che vuol dire il guru del capitalismo mondiale, da cui mi distanzia tanto, voglio dire sia il capitalismo finanziario sia anche il patrimonio economico, ma in cui scrive che le aziende che si ostinavano a pensare che si lavorasse 5 giorni alla settimana su 5, Le aziende non avevano assolutamente la concezione della salute mentale, un tabù, altrimenti in Italia. Le aziende che si ostinano a marginalizzare proprio sulle persone, quindi sui livelli, gli salari, quindi a sfruttare più i lavoratori. Ebbene, lo dice in maniera drastica. Quel tempo e quel mondo del lavoro non esiste più. E da un guru del capitalismo dà un'altra indicazione. Le aziende o le amministrazioni che si ostinano a perseguire su questa strada lo fanno al loro rischio e pericolo. Il che vuol dire che un guru del capitalismo sono destinati a fallire, sono destinati a distinguersi. Ebbene, questo libro quindi apre proprio uno spazio, un nuovo spazio, una nuova concezione, un nuovo modo del lavoro. E badate bene che questo mondo del lavoro, o la ricerca della felicità, crea una frattura tra le aziende. Badate bene che non sono solo le grandi aziende di livello internazionale. Uno pensa sempre, ripeto, ho citato prima l'Ursottica, che è un'azienda metallomeccanica, o un Lamborghini, che è un'azienda dell'automotive, o un Vesa San Paolo, che è un'azienda del settore finanziario, che hanno ridotto sia orari, sia addirittura hanno ridotto la settimana, quattro giorni. Ma parliamo di Ducati, dove non solo si fa la settimana corta, la settimana, il lavoro agile sulla catena di montaggio, ma in cui, voglio dire, si lavora 30 ore, si viene pagati per 40 ore, perché quello è il contratto di metallomeccanici. Ebbene, capire che queste aziende non solo non palliscono, no, perché normalmente la prima risposta è che sono destinati a fallire, ma hanno incrementato enormemente i propri profitti. Oltretutto stiamo parlando di gruppi, ovviamente, di livello e di reputazione internazionale. Ma noi abbiamo analizzato, spesso anche nelle nostre inchieste e nel gruppo di monitoraggio, che sta affrontando, proprio sta esaminando tutti i paesi del mondo, e quindi le varie esperienze, sia in termini di modelli organizzativi, di benessere organizzativo, un'altra delle parole molto spesso sconosciute. Il benessere organizzativo non è il welfare. Se lavori e fai tutta la produzione, lo indicate anche nel libro, poi ti do qualcosa di welfare, magari la giornata di lavoro da remoto. Esattamente il contrario. Se io adotto un modello organizzativo basato sul benessere, io aumento la produttività, aumento la qualità e aumento la mia partecipazione, voglio dire, nel mercato globale. Quindi in genero anche utili. Ma altra cosa estremamente importante, abbiamo una apertura, non solo tra grandi aziende o aziende multirazionali e piccole aziende, ma l'abbiamo anche all'interno di piccole aziende. Oggi nel settore anche di aziende di 300 dipendenti o addirittura in paninoteche. Abbiamo esempi di paninoteche che adottano esercizi commerciali con pochi dipendenti basati sul lavoro su sette giorni su sette, in cui si è adottato il metodo del tre giorni di lavoro, tre giorni di riposo, in maniera tale che tutti, quindi giovani e non giovani, possano fruire di quei famosi due giorni, no, due sabati e due domeniche, voglio dire, di riposo. Ebbene, queste aziende non solo non cittano come educati, ma hanno implementato, proprio la settimana scorsa, hanno aperto ulteriori punti vendita, voglio dire, in una catena concorrenziale, voglio dire, ai grandi marchi globali. Ecco, quindi si può cambiare, si può creare modelli diversi, modelli organizzativi, modelli soprattutto culturali. Noi dobbiamo cambiare radicalmente quei paradigmi culturali che ci tengono ancorati a sistemi del passato, obsoleti, invece è passare al sistema del lavoro che privilegi proprio la realizzazione, voglio dire, delle persone, il coinvolgimento, quell'engagement, che è fondamentale nell'ambito sia del coinvolgimento aziendale, ma sia anche del coinvolgimento in una visione. Molto spesso noi abbiamo ancora troppi manager, gli yes men. Questo è la criticità, invece. Noi dovremmo privilegiare invece degli yes men che, ricordo, stavano facendo fallire un decennio fa la Toyota, che non è solo una grande azienda, ma era anche un metodo, eppure stavano fallendo proprio perché ci si era circondati troppo dei yes men. Noi abbiamo bisogno di manager critici, di manager che riescano ad aprire la mente e che spingano anche i proprietari, per dire, delle tante micro e piccole imprese italiane, a guardare in un mondo diverso, in un mondo diverso, in un mondo partecipativo, in cui vengono coinvolti giovani, non giovani, persone over 50, soprattutto le donne, che sono quelle che vengono espulse dal mondo del lavoro dopo il primo figlio, saliamo a oltre il 52% dopo il secondo figlio, ma soprattutto che non possono dare proprio quella creatività, quel modo di intendere una società in profonda trasformazione, in un mondo in cui abbiamo, esistiamo un inverno demografico sempre maggiore, in cui, anche se invertissimo le politiche demografiche, occorrerebbero 25 anni per avere i nuovi laboratori attivi, ebbene, noi dovremmo porci, soprattutto immediatamente, che il nostro Paese non può più, ulteriormente, essere impoverito da scelte obsolete, arcaiche, giurassiche, ma dobbiamo evolverci in un mondo totalmente diverso e questo libro, ripeto, che consigliano a tutti di leggere, è un libro snello, è un libro efficace, un libro dotato anche di quei fumetti, come si suol dire, che alla fine, se non la caresce, voglio dire, vedi il frumento, oppure vedi i tanti esempi e i tanti link che vengono riportati nell'ambito delle ricerche, quindi che non sono solamente Instat, Gallup, ma tutte le varie fonti di ricerca, perché, alla fine, se vuoi fare veramente il progresso, voglio dire, e vuoi far evolvere la tua azienda, la tua attività, il tuo modo e competere globalmente, è bene che ti adegni, anche altrimenti, perché il rischio è l'estinzione anticipata. Io ringrazio sia Daniela Ricciaccio, sia Berlusca Genari per questa importante chiacchierata, mi auguro che, ripeto, su questo tema possiamo farne tante altre e mi auguro oltretutto di avermi presenti in altri eventi, ma auspico anche un vostro prossimo libro per nuove frontiere e anche per un aggiornamento su che cosa l'essere umano, ripeto, potrà riuscire a realizzare. Io, hai citato, prima citava Berlusca, l'intelligenza artificiale, io dico sempre che in un mondo che sta rischiando di essere travolto dall'intelligenza artificiale, noi più che preoccuparci dell'intelligenza artificiale dovremmo preoccuparci molto di più della stupidità naturale che continua, viceversa, a governare questo sistema di lavoro e questo sistema organizzativo italiano. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie. 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 Grazie di nuovo a voi.